Valuto le vostre squadre Pokémon di Pokémon Scarlatto e Violetto Ricordo di seguirmi e di scrivere anche la vostra nei commenti Oggi valutiamo la squadra di Valentina Miaoscarada, Daxman, Bellibolt, Tauros di tipo Lottaacqua, Espatra e Grafaiai La squadra è originale e gira anche particolarmente bene Però credo che non avere un tipo fuoco, soprattutto offensivamente, possa essere un problema E inoltre difensivamente ti darebbe una gran mano sulle molte debolezze di Miaoscarada Tra tutti i Pokémon del tuo team, Daxman è sicuramente il meno forte Ma mi piace che qualcuno lo giochi e non vorrei togliertelo Quindi ti propongo di cambiare Tauros con la sua variante di tipo fuoco Ed inserire a questo punto un tipo acqua su Espatra Secondo me Tatsugiri è una buona scelta Acquisisci e avere una debolezza al tipo folletto Che però contemporaneamente vai a perdere con il Tauros di tipo fuoco Quindi rientrano tutti i problemi Comunque bella squadra, mi è piaciuta, il mio voto è 8-